Buonasera, buonasera da TG2 Post al via il Conte Bis, il Presidente della Repubblica ha conferito l'incarico a Giuseppe Conte per formare il nuovo governo. Già c'è stato oggi un giro di consultazioni con i gruppi parlamentari, domani seconda giornata per il Professor Conte, noi di questo parleremo e anche della formazione del nuovo governo con i nostri ospiti, con Antonio Misiani, esponente del Partito Democratico ed entrato in queste ore nel Toto Ministri. Mio malgrado. Di questo parleremo con Andrea Montanari, ex direttore del TG1 e attuale direttore dell'ufficio Sudirai. Buonasera. E poi in collegamento il Vice Direttore della Verità, Francesco Borgonovo. Buonasera. Buonasera a voi. E noi iniziamo subito con le parole del Professor Conte, subito dopo aver ricevuto l'incarico dal Capo dello Stato. Non sarà un governo contro, sarà un governo per il bene dei cittadini, per modernizzare il Paese, per rendere la nostra nazione ancora più competitiva nel contesto internazionale, ma anche più giusta, più solidale, più inclusiva. Realizzerò un governo nel segno della novità. È quello che mi chiedono anche le forze politiche che hanno annunciato la disponibilità a farne parte. E' questo il momento di una nuova stagione, un'ampia stagione riformatrice di rilancio, di speranza, che offra al Paese risposte e anche certezze. Dobbiamo metterci subito all'opera per definire una manovra economica che contrasti l'aumento dell'IVA, che tuteli i risparmiatori, che offra una solida prospettiva di crescita, una solida prospettiva di sviluppo sociale. Miss Anni, era questa la svolta che aspettavate? Guardi, quando è scoppiata la crisi di governo, noi abbiamo fatto questa valutazione. Secondo noi gli sbocchi potevano essere due le elezioni anticipate, sicuramente perché questo è uno sbocco previsto dalla Costituzione, nel caso in cui non ci siano le condizioni per una diversa maggioranza, oppure la formazione di un nuovo governo, ma non di un governo pur che sia nato solo per rinviare le elezioni. Il governo che auspicavamo era, ed è, un governo di legislatura, un governo per affrontare tanti problemi che il Paese ha di fronte. All'inizio avevate detto di no a Conte, poi che cosa vi ha convinto? Guardi, in un governo di coalizione è chiaro che non possono prevalere le ragioni e i punti di vista solo di una parte. È chiaro che bisogna trovare dei punti di incontro, dei punti di compromesso. C'è stata una forte richiesta da parte del Movimento 5 Stelle nell'indicazione di Giuseppe Conte come candidato premier. La stessa natura della premiership di Conte cambia in effetti rispetto al governo precedente. Nel governo precedente Conte nasceva come una figura terza e infatti c'erano due vicepremier, Salvini e Di Maio, in rappresentanza delle rispettive forze politiche, Conte in questo governo è il premier indicato dal Movimento 5 Stelle, è un leader del Movimento 5 Stelle in un governo che vedrà anche il contributo del Partito Democratico. Montanari, basta questo cambio? Ma sai, questa coloritura politica che il PD in queste ore accredita su Giuseppe Conte è un po' il tentativo di trovare una via d'uscita, una contraddizione che è apparente. La segreteria del Partito Democratico avrebbe voluto un altro esito, avrebbe voluto le elezioni, lo diceva poc'anzi Misiani. Però la politica fa i conti con la realtà fattuale, con le cose che accadono nel momento in cui accadono. Quindi la richiesta di Salvini di pieni poteri aveva marcato una differenza sostanziale. C'è stato nel Paese anche una risposta di una serie di ambienti di cui il PD non ha potuto, non ha voluto, non è riuscito a non tenere conto. Quindi è entrato dentro questa dinamica di costituzione di una maggioranza complessa, nella quale secondo me il PD sta prendendo un forte rischio in cambio di un appetto, visto lo spread di oggi, siamo a 160, in cambio di un tentativo di dare una risposta positiva al problema del governo. C'è sicuramente un'assunzione di responsabilità da parte nostra in questa vicenda, però c'è anche la consapevolezza dei rischi che correva il Paese. Noi avevamo il leader della principale forza politica uscita dalle europee che chiedeva pieni poteri di fronte a una folla applaudente. Avevamo esponenti di primo piano che teorizzavano l'uscita dall'euro dell'Italia. E' anche questa consapevolezza che porta un gruppo dirigente a riflettere ed assumere delle determinazioni. Borgonovo, è per questo che il PD ha accettato di fare il governo con i Cinque Stelle? Sì, perché altrimenti non sarebbe mai andato il governo tramite elezioni. Qual era il rischio che Salvini instaurasse la dittatura e trasformasse il Parlamento in un bivacco di manipoli? Non mi sembra, qui l'unica allergia alla democrazia e al confronto con i cittadini, mi sembra che venga dalle due forze che adesso cercano di trovare questa intesa che fino all'altro giorno si sono bellamente bastonate. Qua non è questione di fare le cose per il bene del Paese, perché il Paese si è espresso ripetutamente tramite elezioni, ha dato dei segnali e mi sembra che invece i segnali che dia questa intesa, seppure ai primi passi, siano totalmente contrari. Penso a quello che sentiamo dire a proposito dell'immigrazione, cioè una totale inversione di tendenza. Quando sento dire Conte un governo più umano, mi chiedo, uno, lui dov'era fino all'altro giorno? Se era così disumano il precedente governo o perché ha approvato tutte le scelte? Due, cosa avremo? Ci troveremo un sottosegretario sui barconi dell'ONG, un fratoianni per dire, visto che non ci sono solo più i 5 Stelle, ma c'è anche l'EU in questo governo. Ora, mi sembra che tutto questo vada in assoluta controtendenza rispetto a ciò che i cittadini italiani hanno detto, votando, ma anche nei sondaggi, nelle vari studi che sono stati fatti, ad esempio sulla questione migratoria. Quindi dire che si è fatto un sacrificio per il bene del Paese mi sembra quantomeno esagerato. Io vorrei ricordare che non siamo in una repubblica dei sondaggi, ma siamo in una repubblica parlamentare, in cui i governi nascono se hanno la fiducia della maggioranza dei parlamentari. E vorrei ricordare che il governo giallo-verde, tanto caro a tanti commentatori, mi faccia completare il ragionamento, Il governo giallo-verde, lei ricorderà, era nato da due forze che si erano bastonate in campagna elettorale e poi, come prescrive la Costituzione, hanno trovato un'intesa politica che, ahimè, è franata dopo 15 mesi, ma il governo Salvini di Maio Conte I nasce in Parlamento da forze che non si erano presentate assieme alle elezioni. E questo governo nasce in Parlamento da forze che sicuramente si sono avversate negli ultimi 15 mesi, ma nasce in Parlamento, secondo le regole della nostra Costituzione, sulla base di un'intesa politica. Io spero più solida di quella che doveva durare tutta una legislatura ed è miseramente franata. Quali sono le richieste che fate ai 5 Stelle? Per esempio, Borgonovo citava l'immigrazione. Voi chiederete di cancellare i decreti sicurezza? L'accordo di Massima che è stato raggiunto prevede di recepire le indicazioni della lettera del Presidente della Repubblica che ha espresso una serie di rilevi critici sul decreto sicurezza bis e noi partiremo da quello. Poi c'è l'idea di una nuova legge quadro sull'immigrazione, che naturalmente è un tema di medio periodo che andrà approfondito, ma il tema è innanzitutto partire da quelli che sono stati i rilievi del Presidente della Repubblica su profili del decreto sicurezza bis che erano largamente criticati. E questo lo dico per rassicurare tutti quelli che agitano la bandiera del tema dell'immigrazione in modo strumentale e assolutamente... Il punto è, la prossima nave dell'ONG che arriva entra nei porti italiani oppure no? Questo è il punto, non nel medio periodo e lungo periodo, nel brevissimo periodo. Nel brevissimo periodo noi... Nel brevissimo periodo... E siete alleati con una forza politica... C'è l'EU che sale su queste navi. Allora mi chiedo... Aspetti, Borgonovo, faccia rispondere un attimo solo Missiani. Io la penso così, guardi, ci sono delle convenzioni internazionali che vanno rispettate, c'è un dovere di soccorso in mare, che è una legge del mare oltre che una convenzione internazionale e poi naturalmente chi ha diritto di rimanere in Italia rimane in Italia, chi non ha diritto deve essere rimpatriato. Sono regole, vanno rispettate, non vanno agitate come bandiere propagandistiche. Vi ha imbarazzato la firma di Toninelli e della Trenta di fermare due navi dell'ONG proprio in questi giorni? Ma guardi, noi siamo per una discontinuità anche sulle politiche di gestione dei flussi migratori. Lo abbiamo detto, quanto contenuto nell'accordo di governo secondo noi segna una prima discontinuità. è chiaro che bisognerà seguire una politica che rispetti le convenzioni internazionali ed eviti la strumentalizzazione politica che è stata fatta in questi 15 mesi di un tema molto complesso, molto delicato, che va affrontato coniugando la legalità e la sicurezza sicuramente, ma anche con l'umanità e il rispetto delle convenzioni internazionali. Se il nuovo governo seguirà questi criteri, noi sosterremo con lealtà l'azione del nuovo governo. Sentiamo le dichiarazioni di oggi pomeriggio in una conferenza stampa dei due capigruppo del Movimento 5 Stelle. Chi attacca e mette in discussione il nostro capo politico, mette in discussione e attacca ciascuno di noi. Questo deve essere molto chiaro. Il Movimento 5 Stelle è un monolite. Ci siamo molte volte espressi a più voci. In qualche momento di questi mesi di governo queste voci sono andate forse anche in contrasto una con l'altra, ma quello che è successo in questo mese di agosto ha ricompattato totalmente il Movimento 5 Stelle. Noi adesso andiamo a tagliare i parlamentari e questa cosa sarà possibile grazie a questo governo, che nascerà e ovviamente però noi siamo ben consapevoli che gli italiani hanno bisogno di risposte e non è un taglio dei parlamentari a dare queste risposte. C'è una finanziaria che ci aspetta ed è molto importante affrontarla bene. Montanari, c'è un passaggio, quello di Patuanelli, in cui dice che il nostro capo politico non è in discussione ed è Di Maio. E ieri Grillo ha fatto una telefonata a Di Maio, ha detto Di Maio tu sei il capo politico, tu decidi la squadra. Come si metterà? Guarda, quella così chiara, così netta, così forte oggi dei capi gruppo assomiglia molto a una scusazio non petita, cioè l'impressione è che il capo politico dei 5 Stelle non sia mai stato così in difficoltà come in questi giorni e quindi per questo oggi questa riproposizione così netta della difesa del capo. Però riguardo al tema dell'immigrazione e altri temi che potranno causare giorni difficili a questo governo, sfrondata dalle reciproche demagogie, dall'accoglienza a tutti i corsi e dal rispingimento a tutti i corsi. La verità è che già il governo Gentiloni con Minniti aveva cominciato a fare molto, poi Salvini ha rigidito ancora di più la vita. Ma il punto è, in questo governo, io mi domando e lo domando anche a Misiani, si sente un vago odore di turigliatto e chi ha seguito le cronache politiche degli ultimi 15 anni si ricorda a causa, facciamo riferimento, il povero governo Prodi che tutti i giorni, facevamo tutti i giorni le dirette al telegiornale perché non era possibile registrare i servizi chiusi in quanto le cose accadevano all'ultimo secondo perché erano sempre in bilico. Cioè c'è il rischio con due compagini così diverse che si sono date mazzate incredibile fino all'altro giorno che laddove al Senato, ad esempio, i numeri sono un po' risicati, la maggioranza possa avere delle difficoltà. Pensiamo alla sessione di bilancio, per esempio. Voi questo problema come ve lo siete, cioè che risposta date a questo rischio? Ma guardi, il paragone con esperienze di 12-13 anni fa, credo che sia improprio perché allora il centro-sinistra era molto frammentato, molto diviso. Qui abbiamo un governo che nasce da un'intesa politica tra due forze politiche si uniranno e parteciperanno anche altri gruppi ma non c'è il grado di frammentazione che c'era in quell'esperienza, in quel governo Prodi. Poi io sono per guardare ai fatti e alle politiche e io sono convinto, per esempio, che sul terreno delle politiche economiche e sociali ci siano molti più punti in comune tra il PD e il Movimento 5 Stelle e di quanti ce ne fossero tra la Lega e il Movimento 5 Stelle. C'è una forte sensibilità ambientale che è condivisa da queste forze politiche. Che il premio ricaricato ha sottolineato oggi. L'idea che l'ambiente possa essere un volano. C'è nei 10 punti di Di Maio, c'è nella mozione Zingaretti, nelle priorità programmatiche del Partito Democratico e l'ambiente può essere veramente la leva del rilancio dell'economia del Paese. C'è una sensibilità sui temi del lavoro, c'è l'idea di ridurre le tasse bloccando l'aumento dell'IVA che è una grande spada di Damocle della prossima legge di bilancio e tagliando il cuneo fiscale. C'è l'idea di lavorare sul welfare e sulla scuola nella ricomposizione del bilancio pubblico e nella direzione dell'equità sociale. Credo che siano dei punti importanti attorno a cui costruire un progetto di governo del Paese. Borgonovo, ci sarà un rischio turigliatto? Chiamiamolo così. Ma magari ci fosse turigliatto oggi, magari lo rimpiangiamo turigliatto, rimpiangiamo anche Malabarba e tutti gli altri. Ma come si fa a dire che l'intesa nasce sull'ambiente? Gli italiani in questo momento, con tutto quello che c'è da fare, voi gli proponete Greta Thunberg, stiamo scherzando. Io ho letto oggi un post su Facebook di Monica Cirinna che diceva ritorneremo a parlare di diritti, adozioni arcobaleno, liberalizzazione delle droghe leggere, nuove leggi sul fine vita. Sento parlare, quello che ha detto Misiani prima, è porte aperte a tutti, che non è minniti. Ma non banalizziamo le cose, è l'EU questa cosa. No, non sto banalizzando le cose, sto dicendo quello che voi avete in mente di fare. Io ho parlato del recepimento dei rivivi del Presidente e parla di porti aperti. Ma guardi, abbiamo dei decreti sicurezza che il Presidente della Repubblica, mi scusi, no, ho visto un brutto film che è quello che state girando in questi giorni. Non ha Venezia ma Roma, non è Venezia ma Roma. Il Presidente della Repubblica gli ha firmati i decreti sicurezza, è quelli con cui vi è prestato a governare. Andavano benissimo, andavano benissimo. Quindi non mi parli delle leggi del mare, non mi parli delle leggi del mare, delle convenzioni, perché le convenzioni vengono perfettamente rispettate. Lei ha detto che farete entrare le navi dell'ONG. Sentiamo su questo le parole di Matteo Selvini. Si legge Conte, si scrive Monti. Tutto qua, con gli stessi registi a Parigi, a Berlino, a Bruxelles, e gli stessi protagonisti del Partito Democratico. Non cambiano neanche i nomi. I Renzi, i Del Rio, i Martina, i Prodi, i Veltroni. E questo. Fortunatamente non sono maggioranza nel Paese. Come leggo da alcune dichiarazioni di esponenti di sinistra del Partito Democratico, le prime leggi che andranno a cambiare, a cancellare, saranno i decreti sicurezza. Non fanno uno sgarbo a Salvini. Fanno un torto agli italiani. Qualcuno veramente vuol far ripartire il business dell'immigrazione clandestina? Siamo in chiusura. Giro rapidissimo. Credo che quel signore dovrebbe fare un po' di autocritica. Ha scatenato una crisi in pieno agosto pensando di andare all'incasso e pensando di ottenere i pieni poteri non si sa come. E adesso si ritrova fortemente indebolito perché l'Italia continua ad essere per fortuna una democrazia retta da una Costituzione, una democrazia parlamentare, in cui non può essere un uomo solo a dettare le regole, ma c'è una dialettica politica che ha portato e porterà la nascita di un nuovo governo. Montanari. Salvini doveva diventare il padrone d'Italia. Adesso credo che più che continuare a lanciare i proclami dovrebbe fare un minimo di autocritica. È indubbio che Salvini, dopo aver avuto una capacità quasi rabdomantica, magica, di raccogliere consenso, all'ultimo miglio l'ha veramente sbagliata. Io però penso una cosa. Penso che la contraposizione, lo vedremo nella manifestazione di ottobre a Roma, al governo da parte della Lega, non sarà più tanto solo sull'immigrazione ma sarà sull'Europa. Abbiamo sentito già oggi in un'altra parte della sua dichiarazione che noi non abbiamo mandato in onda. Salvini dire che questo è il governo che piace all'Europa ma non piace agli italiani. Quindi bisogna stare molto attenti, il governo dovrà stare molto attento a non dare adito a questa sorta di rischio, quello di passare come il governo che rappresenta i poteri forti e che non rappresenta gli italiani. Borgo Novo. La vedo molto difficile non dare adito a quest'idea. Vedremo che bella finanziaria faranno, vedremo che cosa faranno sull'immigrazione, vedremo che cosa faranno sui cosiddetti temi etici. Erano due partiti che fino all'altro giorno si insultavano dicendo tu sei il partito di Bibiano, voi siete una manica di incompetenti. Adesso sono tutti amici e tutti insieme per le magnifiche sorti e progressive dell'Italia. Secondo me questo governo sta insieme perché ci sono delle pressioni esterne che vengono appunto dall'Europa e quando ci sono pressioni di questo tipo significa che per l'Italia non si mette bene. La storia ce lo insegna. Vedremo cosa faranno, tanti auguri. Grazie, grazie a Borgonovo, grazie a Montanari. Missiani, farà il Ministro dell'Economia. Io continuerò ad occuparmi di economia, sono capogruppo in Commissione Bilancio del Senato e è già una grande responsabilità. O andrà a Bruxelles? No. Bene, grazie, grazie all'Onorevole Missiani per essere stato con noi, grazie a tutti voi. Vi lascio alla fiction di Rai 2 Io sono libero dedicato alla figura dell'imprenditore siciliano Libero Grassi che non si è piegato alla mafia e fu ucciso appunto dalla mafia. Da tutti noi, l'augurio di una buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.